Dove sei? Sono un attimo in bagno Ma ci dobbiamo andare a vedere il film Sto pisciando Posso un attimo? Una pausa Sbrigati Sto tornando Cazzo fai? E questo non sai cos'è? Perché tu non usi la luce notturna Imbecille Sei proprio un idiota Me lo sono dimenticato Posso dimenticarmi No Ragazzi Me la sono dimenticato Veramente questa cosa è ottima Vi devo dire Eccolo qua La lampada notturna decorativa definitiva Extra star Un watt non consuma un cazzo Ha led a 120 gradi E dura 25.000 ore Lo trovate su Amazon Al prezzo di mi pare 6,50 Ne trovate due Come vedete una è stata messa qui Scusatemi la La fetenzia Che trovate per terra Mia sorella Non pulisce Diciamo Abbiamo fatto un po' di Ragazzi Amore siamo in walk in progress Qua Sistema le cose Niente ragazzi Non mi ha pagato extra star E' una cosa Parlando seriamente Che è una cosa comoda Ecco perché Una persona si alza Doveva cercare il bussante Invece c'è questa cosa qui Messa lì In varie parti del corridoio E tu cammini tranquillamente Poi durante la giornata Che è illuminato Oddio Sanzarone Signore Che cos'è In zanzarone In zanzarone L'abbiamo ucciso Lo zanzarone Abbiamo ucciso Lo zanzarone In diretta Ecco Ecco E poi ti attirare Anche di zanzarone Non c'è scritto Non può essere Niente ragazzi Io ve lo consiglio Perché per 6 e 50 Vale la pena Poi la mattina lo spegno Sì sì Così perché alla fine Poi si va a scaurire Ecco Come ripeto 25.000 ore Pensavo che era una merda Allora Non so se è un watt 8 watt 25 lumini Ma cos'è di caricabile Cos'è No no Va soltanto lì Poi dopo un periodo Va a finire Cioè 25.000 ore Dura Dovrebbe essere Raga Veditemi quanti giorni sono E poi dopo Poi devi comprare un altro Sì ma Fra due o tre mesi In una di un brano Vabbè In base Il consumo E fate Se voi si state attendi La sua data è accesa Solo 8 ore al giorno Allora vi dura di più Sono state 24 su 24 Vi durerà di meno C'era una cosa normale Bene ragazzi Fatemi sapere Se vi fa piacere Questi video Un po' Di queste Stupitate Diciamo Di recensioni Di queste cazzatelle Che io compro Per casa Che sono utili C'è alcune Come questa qua È utile Per 6,50 Su Amazon Lo trovate Scrivete questo Io non ci guadagno Ognun cazzo Che non vengono pagato Però se andate Nei centri commerciali I prezzi sono molto più alti 20-25 euro Per due Va bene Forse saranno meglio Però uno dice Oh io ho pochi soldi Posso permettimi questo Mi prendo questo qua E costa poco Ragazzi Fatemi sapere un po' Una vostra Lasciando un mi piace Se mi avete conosciuto In questo video Iscrivete al canale Tornate alla campanella E considerate che vi state Ogni mio video Che caricherò Io vi ringrazio a tutti Alla prossima Alla prossima